Gli ombrellini da cocktail sono una passione dei bambini. I miei figli li prendono da tutte le parti, li tengono e li abbiamo tantissimi in casa. E naturalmente un giorno guardandoli ho pensato, ma con questi ombrellini così carini ci si può fare qualcosa. Ci si può fare una lampada. Aprite l'ombrellino e fermatelo con il piccolo dischetto di plastica che trovate alla sua base. Iniziate ad attaccare gli ombrellini uno all'altro con la colla. Dovete creare una specie di pallina. Lasciate un minuscolo foro per poter inserire la lampadina. Naturalmente io ne ho già preparato delle altre, più grandi, più piccole, sono tutte in dimensioni diverse. E le attaccherò su questa catena di luci di Natale. E lo fisso con due punti di colla a presa rapida, uno su ogni lato del buco. In questo modo. Volete aspettare un attimo che tiri. Non sono carine, mi piacciono tantissimo. Poi accese, hanno tutta una luce soffosa. E' rimasto un ombrellino. Se vi rimane un ombrellino lo potete sempre utilizzare come decorazione. Grazie. Grazie.